Congresso dei Verdi della Regione Lombardia, Milano 9 febbraio 2019 Mozione numero 3 Per l'ecologia in politica, per una politica ecologista, per l'ecologia sociale Candidati con portavoce Antonella Di Maio e Gilberto Rossi Aria, acqua, terra, fuoco Prepremessa, questo non è un documento contro la mozione 1 e 2 ma un ponte di intenti e di unione per l'invito ad aprire una discussione e una riflessione dopo che i Verdi troppo spesso sono stati usati come trampolino di lancio personale o anche peggio La premessa In un periodo in cui il paradigma neoliberista sta cancellando la politica per lasciare spazio ai fascismi mascherati da sovranismi e intolleranze e qualunquismo è importante e fondante tornare a praticare la democrazia e le organizzazioni politiche e associative devono essere esempio e scuola delle pratiche democratiche volte all'ascolto, inclusione, partecipazione e al coinvolgimento In un periodo in cui anche il concetto di partecipazione è derubricato a mera informazione e consultazione passiva volta non all'ascolto e a una dialettica evolutiva e inclusiva ma solo per normalizzare, depotenziare e silenziare le voci critiche è importante ridare credibilità alla pratica politica con coerenza ad una pratica politica che sia concreta e non di facciata cercando sì la mediazione per un governo e una proposta di governo ma tenendo fede ai principi propositivi e soprattutto democratici Per dirla in eufemismo, negli ultimi sei anni la pratica politica dei Verdi è rimasta relegata a caccioparti ovvero a cartello elettorale ovvero a tutto quello contro cui sono nati storicamente i Verdi non per lamentare l'assenza di un senso della storia ma anzi per sintetizzare che la scomparsa dei Verdi se non scogliate Tavorino come il cartello a sinistra per Milano e il cancellarsi seguendo la linea di Valzani prima e di Sara poi lascia intendere a più ma con l'assenza nei temi di rimenti come Expo 2015 e alle speculazioni che l'hanno accompagnato e mancati progetti come la Biblioteca Europea non a caso il tema poi ritorna con l'affaire Scali Ferroviali e con la completa assenza di una linea politica linea politica che nel rispetto delle federazioni locali non vuol dire in nulla ma un supporto teorico e progettuale concludiamo la premessa con la totale assenza di supporto e di coordinamento alle attività dei circoli verdi e dei consiglieri in ultimo per la città metropolitana di Milano e relative tornate elettorali di secondo livello dove sono mancati i momenti di ascolto di analisi e comprensione delle esigenze del territorio sappiamo da dove veniamo sappiamo dove siamo sappiamo dove vogliamo andare stiamo cercando di capire come andarci e con chi andarci il tema delle elezioni europee di maggio 2019 non può essere esaustivo e non possiamo dimenticarci la tornata elettorale per le amministrative dove se l'ambizione è di presentare il più possibile il simbolo dei verdi il tutto va contestualizzato a seconda delle realtà e presenze locali e se nell'ambito del centro-sinistra e del civismo ci sono compatibilità per alleanze e cartelli elettorali di progetti e di proposte ecologia integrale per usare i termini pontifici di Francesco ecologia sociale per dirla alla vera riteniamo che non ci possa essere progresso e miglioramento delle situazioni ambientali se le nuove normative non corrisponde anche a un miglioramento delle condizioni sociali Langer parlava di conversione ecologica desiderabile e non come un peso da scaricare sulle classi e ceti meno ambienti da qui le politiche dell'accesso per dirla alla Jeremy Rifkin e nel concreto di questi giorni il paventato secondo aumento del biglietto TM che a distanza di nemmeno un decennio va a riproporre l'aumento del 33% dei biglietti ferroviari di Trenorda portando al 100% l'aumento del biglietto TM che sono chiaramente il contrario rispetto alla promozione dell'inclusione e della promozione del trasporto pubblico locale dal 2007 la crisi globale ha portato ad acquirsi dalle differenze socio-economiche la scomparsa della classe media ha visto il polarizzarsi del divario tra ricchi e poveri i fantasmi della decrescita ci sono stati ma non sono stati per nulla felici anzi hanno portato limitazioni da qui il ruolo dei verdi e della politica verde per evitare che questi costi siano a carico di chi con più difficoltà li può sorreggere pensate anche ai mutamenti del mondo del lavoro dove i green jobs ad esempio quello del fattorino in bicicletta è diventato da esempio di liberazione e autonomia a completa subalternità dove aumentano solo i rischi e gli utili sono delle multinazionali che hanno sussunto e cooptato le cooperative un po' la stessa dinamica che ha subito il mondo del biologico da progetti di tutela ambientale e di nuova vita a venire stretti e assimilati al mondo della grande distribuzione dove non ci sono criteri ambientali con alcune eccezioni l'ecologismo in Lombardia da vent'anni il movimento ecologista in Lombardia porta avanti iniziative e proposte siano i comitati locali tematici, i vari no alle tangenziali, alle grandi opere inutili siano il tento, il tangenziale del parco d'atticina e l'aria o quelli più generalisti a sfondo ecologista per l'aria pulita e per la mobilità sostenibile dalle critiche a massa a quelli più istituzionalizzati come la FIA, configurazione italiana amici bicicletta e gli amici della bicicletta a livello locale si sono riscontrati anche vari successi significativi basti pensare all'incineritore Elkona Castellanza ai progetti tutti fermati all'interno dei parchi tra cui quelli del maxi allevamento di Gallino Vaiole a Bustogarolfo nel parco del Rocco e a quei successi spesso, non sempre, sono corrisposti dalle affermazioni o dai verdi o degli ecologisti civici purtroppo è mancata poi la correlazione e rappresentazione a livello regionale il caso di Expo 2015 è archetipico e paradigmatico in tal misura dove nel 2009 in Lombardia è nato un coordinamento di comitati ambientalisti ed ecologisti che ha dato vita a iniziative propositive e culturali ancora prima che di protesta è mancata la presenza dei verdi regionali per motivi che non occorre andare a ripetere questa proposta congressuale alla luce dei gravissimi episodi accorsi nell'Assemblea regionale dell'11 marzo 2018 chiede che la democrazia e la politica tornino nei verdi come pratica e non come rapporti residuali di vecchi progetti politici o, peggio, di gruppi di interesse particolare e di rendite di posizione che, francamente, in un buio completo di cinque anni non si riesce a capire non una mozione politica contro qualcuno ma una mozione politica per dare vita ai verdi il mondo dell'ecologismo si è sviluppato e ha trovato nuovi approdi tra cui cinque stelle per poi ritornare smarrito a Milano, dopo il nulla di Expo dopo il nulla per gli scali ferroviari e la svendita del patrimonio pubblico per arrivare alla goccia del biglietto ATM che rischia di aumentare ancora ripartire, dando spazio e rappresentanza alle vere istanze ecologiste non una green economy che ha prodotto mostri come per la questione dei fattorini o, peggio, che ha prodotto solo greenwashing per le multinazionali forse, anzi, certamente, si affaccia una lunga camminata nel deserto perché, nonostante alcune genuinità ecologiste come alcuni circoli nel territorio al metro milanese hanno dimostrato c'è possibilità e necessità di una rappresentanza ecologista e verde e come il progetto politico civico ecologista la città dei comuni ha dato vita nonostante fosse l'elezione di secondo livello ha saputo aggregare il panorama civico che non si rassegna ad essere satellite del milanocentrismo brevemente, quelle che potrebbero essere le linee guida e gli argomenti che verdi dalla Lombardia potrebbero trattare e portare avanti in maniera coerente seguendo una linea politica europea e globale e di dialogo con gli altri soggetti politici di sinistra e anche con il mondo cattolico e dell'associazionismo Enunciamo brevemente alcuni punti augurandoci che possano dar vita a gruppi di lavoro tematici Aria Le politiche per l'aria pulita incipite dalla conversione ecologica ripartire dalle proposte dei traguardi che si erano raggiunti quando si è ricoperto in carichi di governo in provincia di Milano e oltre vent'anni fa in regione Lombardia Infoenergia, Sportelli per l'Energia Agenda 21 I parchi regionali I plis I parchi locali di interesse sovracomunale La mobilità per l'aria pulita La mobilità pubblica e collettiva La bicicletta e l'intermodalità Scusate Acqua Fiumi, corsi d'acqua Qualità dell'acqua Il consumo Lotta alla plastica usegetta Turismo fluviare, lagunare, ecc Problema delle piogge e allagamenti Il tema delle vasche Terra Consumo di suolo Agricoltura biologica e agricoltura biodinamica I parchi I PCT Piani di governo del territorio I PTM Piano territoriale metropolitano Energia La conversione energetica dei combustibili fossili alle fonti rinnovabili e le linee guida che già con Infoenergia erano state avviate e vari spiani di azioni per le energie sostenibili partendo dagli edifici pubblici Nel mondo del lavoro promuovendo la conversione ecologica in tutti gli ambiti per quel che riguarda il commercio promuovendo il commercio rivicinato e una moratoria verso i nuovi centri commerciali Bio Politica a favore della vita come l'impegno ad arginare il cambiamento climatico Organizzazione Ripartire dalla presenza sul territorio con macroali territoriali nell'ordine dei 50-100 mila abitanti o in un'ottica bioregionalista a seconda della morfologia del territorio Calendare di dare assemblei mensili per i livelli dirigenziali regionali e bisettimanali per quelli provinciali e settimanali per quelli locali Questo è una borsa per ripartire a fare politica verde e i veri Dal punto di vista delle alleanze progettuali l'esperienza della città dei comuni in vista civica metropolitana nell'ambito di una politica fortemente polarizzata verso il maggioritario è riuscita ad arginare la deriva milano-centrica e maggioritaria Ribadiamo alla necessità della rappresentatività e del metodo proporzionale e che possa dare spazio anche alle minoranze interne C'è bisogno di tornare all'origine a tante liste ecologiste radicate nei territori è una federazione che riesca a dare spazio e voce a tutte le stanze per questo il ruolo dei verdi trova adeguata forma nella federazione e non nel partito centralista e centralizzatore tra l'altro è la dinamica a cui stiamo assistendo Scopo di questa mozione è di riportare il dialogo e un sereno dibattito politico all'interno degli organismi verdi della Lombardia a tutti i livelli un ponte i candidati alla carica di portavoce regionale della Lombardia Antonella Di Magno e Gilberto Rossi grazie grazie a tutti